E allarme rosso a tocco da Casauria dove sono stati riscontrati quattro casi di positività al covid-19 in altrettanti ragazzi poco più che 18 anni appena rientrati da una vacanza a Malta. Casi analoghi a quello del ragazzo di 21 anni che due giorni fa è stato ricoverato al San Pio di Vasto proprio dopo essere rientrato dall'isola nel Mediterraneo con febbre e tosse sintomi tipici del covid. I quattro giovani toccolani però come ha spiegato il sindaco Rizziero Zaccagnini dando l'annuncio in diretta a Facebook sono tendenzialmente asintomatici, sono in isolamento domiciliare e le due attività delle famiglie, un bar e un negozio sono state chiuse in via precauzionale. E certamente in paese a prensione ce n'è dopo aver saputo appunto di quattro casi positivi però è altrettanto vero che c'è un mi sembra un buon senso di responsabilità e anche una capacità di raziocinio per cui nella realtà comunicando bene con i nostri concittadini anche questa mattina di fatto siamo tutti in attesa di avere i risultati dei primi controlli, i primi tamponi che la ASL si accinge a sviluppare sui contatti più intimi e diretti dei quattro ragazzi e da lì poi procederemo per gradi a definire come meglio comportarci. Mentre si è messo in atto il protocollo diritto il sindaco torna a richiamare l'attenzione sui suoi concittadini e annuncia alcune misure per cercare di soffocare sul nascere un possibile focolaio di contagio. Certamente in paese chiuderemo, restringeremo le norme di tutela e di controllo in particolare per alcuni giorni obbligando la mascherina anche, l'uso della mascherina anche all'esterno quando ora si è in contatto con altri, anticipando l'orario di chiusura notturna dei locali e vietando di fatto i giochi e le attività di contatto, questo per qualche giorno nell'attesa di evoluzioni. Chiaramente è una situazione in costante monitoraggio quindi ogni provvedimento, ogni decisione potrebbe cambiare ora dopo ora. Noi ribadiremo questo anche con ordinanza sindacale ma sta molto alla responsabilità di ciascuno di noi evitare che una pre-allerto, una pre-emergenza come questa si trasformi poi in una reale emergenza territoriale.